Siamo a San Benigno, Alberto Graffino è il nuovo candidato sindaco, si stanno ultimando gli spogli nei cinque seggi ma il dato pare ormai evidente. Sì, diciamo che abbiamo temuto di non raggiungere il quorum, siamo arrivati veramente lì lì, per un pelo al raggiungimento dello stesso. Sicuramente c'è stata tutta una serie di concause, la giornata molto bella, è già estiva, la votazione su un giorno solo, purtroppo la presenza per la seconda volta di una sola lista. Sicuramente è emblematico il fatto che la nostra campagna avesse come sottotitolo verso un nuovo senso di comunità, perché crediamo che uno dei bisogni principali del nostro territorio sia proprio ritrovare questo spirito di affezione. Chiaro che c'è tutto un discorso probabilmente sistemico anche a livello nazionale, non solo locale, però diciamo che tutto ciò non affuscherà minimamente l'entusiasmo che ha contraddistinto tutto questo anno di formazione, di gruppo e di stesura del programma, in cui crediamo davvero fortemente e davvero vorremmo cercare di far svoltare questo paese da domani. I prossimi passi del nuovo sindaco quali saranno? Sicuramente nel primo periodo ci saranno alcune questioni di carattere burocratico, dopodiché si sarà la formazione della Giunta, il primo consiglio comunale, ma credo che quello che vogliete sapere in realtà è cosa faremo nel concreto. L'abbiamo ripetuto per tutta la campagna elettorale, abbiamo davvero tanti obiettivi e ci siamo proprio detti che li avremmo stampati su dei grossi tabelloni e avremmo tappezzato il comune per non perdere mai di vista gli obiettivi che ci siamo proposti.